Pippe, dai che ti faccio vedere come si fa la pizza, va? Guarda, guarda qua, guarda qua che roba, evitazione 24 ore, 500 grammi a panetto così faccio una pizza solo alla volta di 40 centimetri, è super idratata, 70 per cento my friend, 70 per cento, tu le fai, tu le fai, tu le fai, Ciro, la sai fare la pizza, sei sicuro? Mica, va che roba, sta esplodendo, sta esplodendo, aspetta un attimo, va, che con una mano, con una mano diventa difficile Oh, guarda qua Eh, se l'ha mangiata loro Puoi scegliere? No, guarda qua Non so bene Grazie Qua c'è concentrazione, Pippe Poi abbiamo una bella passata, l'ho preparata io Poi abbiamo anche l'effetto sonoro di uno che si lamenta Però adesso ci manda il complainer, ci manda la lamentera Oh, becati questo Baffalo mozzarella, su, baffalo Cherry mozzarella, baffalo Baffalo mozzarella di Cleve, don't make it a top In Italia non la trovate questa roba Per le battezze, dunque C'è un altro giamino? Basta Buono Così bastano Poi ci mettiamo il prosciutto e un po' di cose Lui c'ha questo bambino anche Ma cosa c'ha però? Ma non c'ha niente, ti vuole fare la pizza anche lui Dai Dì, mamma, dove c'è? C'è una pallavata? Lista, 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 lista Mi capite, è un manicomio qua dentro, non hai idea, non hai idea Non hai idea Cioè, piangono tutti Tutto il tempo Vai, 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 tra un mese te ne ricordi Un paio di mesi te ne ricordi anche te, cosa vuol dire Allucinante Dai, vai che roba Guarda, 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 guarda come si gonfia Andiamo a bevissi tante nocce, andiamo qua e mangiare Allucinante Fibè, secondo me non c'è competizione, mi spiace Mi raccomando Cerchiamo di sentirci adesso che Che l'ana entra in fase Prima che delivra Ci sentiamo Facciamo un po' di cazzate Ho provato a chiamare un paio di volte e non rispondi mai Mi sembra lì a pensare a fare soldi Oh, in gamba Grazie Grazie a tutti